La droga arriva in acqua scooter e questo è il nuovo mezzo utilizzato dai trafficanti albanesi per trasportare grossi carichi di marijuana. Uno di questi è stato intercettato ieri sera intorno alle 21 sulla costa tra Torre Specchie e San Foca dai baschi verdi della Guardia di Finanza di Lecce. Due albanesi in acqua scooter sono stati notati mentre si avvicinavano alla costa ad insospettire una moto vedetta delle fiamme gialle in perlustrazione su quel tratto la velocità eccessiva dei due mezzi. Alla vista della moto vedetta è scattato l'inseguimento per tentare di bloccare i due conducenti in fuga conclusosi poi con il fermo in mare del primo mezzo con a bordo un giovane scafista albanese e il rintraccio del secondo mezzo abbandonato però dall'altro scafista in fuga nei pressi di Punta Cassano. Disperso in mare il carico di droga di cui i due sembrerebbero essersi disfatti durante l'inseguimento. I due mezzi risultano sotto sequestro e per il 19enne di Valona è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per violenza e resistenza all'unità militare oltre al decreto di espulsione emesso dal prefetto di Lecce e l'ordine di allontanarsi del territorio italiano entro sette giorni emesso dal questore. Solo lo scorso 22 agosto i militari del reparto Areo Navale della Guardia di Finanza di Bari in collaborazione con i colleghi di Taranto avevano sequestrato due quintali di marijuana nelle acque antistanti litorale di San Cataldo a Lecce arrestando anche in quel caso un corriere di nazionalità albanese.